Buongiorno a tutti quanti, ben ritrovati. Anche oggi parliamo di festival studentesco. Anche oggi siamo in un istituto superiore, più precisamente al Galileo di Bolzano, Galileo Galilei di Bolzano, e stiamo per parlare con i rappresentanti del festival, Gabriele e Monica. Ciao ragazzi, benvenuti, mi infilo tra di voi. Allora, allora, com'è andata l'anno scorso? L'anno scorso siamo arrivati ottavi su venti scuole circa e devo dire che è andata meglio di come ce l'aspettavamo visto che non ci siamo impegnati tantissimo e visto che due anni fa ci eravamo impegnati di più e siamo arrivati lo stesso ottavi. Però quest'anno abbiamo un sacco di partecipazione e andrà molto meglio degli anni scorsi. Sì, ci siamo organizzati anche molto meglio e devo dire che va molto bene. Siete soddisfatti quindi dei vostri più di mille alunni che sono in questa scuola? Parteciperanno tutti, non credo, però in grande maggioranza? Sì, partecipano in molti rispetto comunque agli anni scorsi. A noi abbiamo iniziato da un paio di anni fa, non avevamo nemmeno partecipato e non c'era tanta partecipazione, invece quest'anno ce la stanno mettendo tutta veramente, anche noi stiamo riuscendo a organizzarci bene. Bene, una bellissima atmosfera e invece Gabriele cosa ci puoi dire? Diciamo, dove siete più forti? Dove vi devono temere le altre scuole? Ma l'anno scorso ci siamo piazzati molto bene con la danza moderna e cerchiamo di puntare anche quest'anno appunto sulla danza, mentre siamo un po' più scarsetti sull'online production, questo perché abbiamo una scuola tecnica e siamo molto forti nelle scritture. Un pronostico? Cosa potete arrivare? A che posizioni? Potete sperare di arrivare? Ma al primo posto è un po' difficile visto la grossa concorrenza delle altre scuole, soprattutto dei licei che hanno una partecipazione storica nel festival. Noi cerchiamo di puntare almeno al podio, giusto per risollevare un po' il morale di questa scuola. E allora per risollevare ancora di più il morale fai un in bocca al lupo ai tuoi ragazzi, un in bocca al lupo vero e sentito. Ragazzi mi raccomando, quest'anno cerchiamo di arrivare almeno sul podio e forza Galileo! Allora pescata direttamente dalla sala insegnanti, grazie mille per la disponibilità. Allora, ottavo posto l'anno scorso, quest'anno andrà meglio? Sicuramente, direi che deve andare meglio perché l'impegno che i ragazzi profondano è veramente grande. Per cui cari ragazzi andate avanti così e vi auguro il meglio e vedrete che il successo arriverà. Grazie mille! Prego! Galileo! Galileo! Eh! Eh! Galileo! Galileo! Eh! Galileo! Galileo! Eh! Eh!